Città di Capua in provincia di Caserta, siamo all'interno del Comune di Capua, ovvero nell'atrio del Comune di Capua. Questo pomeriggio abbiamo un ospite speciale, buon pomeriggio da parte di Antonio De Rosa, sempre pronti a darvi il meglio dell'informazione online. Siamo in compagnia del consigliere comunale, l'Avvocato Rosaria Nocerino. Benvenuta qui su Capo Online, come stai? Tutto bene, per quel che si può stare bene in questo periodo, buon pomeriggio. Volevo ringraziarvi per questo invito e ci tenevo a complimentarmi con voi per questa iniziativa. Credo che sia davvero ottima questa iniziativa e mi auguro proprio per questo che abbia un carattere non episodico, ma duraturo. Complimenti davvero, complimenti. Grazie a te per aver accettato il nostro invito, perché c'è stato qualcuno, sai che magari ha risposto, altri no, però non fa nulla, noi siamo sempre... Credo che davvero sia ottima perché crea quello che è poi un contatto diretto tra e con i cittadini, che deve rimanere la comunicazione è la prima cosa e quindi è importante. Complimenti, davvero complimenti. Grazie ancora. Allora, Rosario, noi abbiamo delle domande alle quali ti pregherei gentilmente di rispondere. Non a caso abbiamo scelto questo luogo, il Palazzo Comunale, dove in alcune stanze c'è il Sindaco, c'è il Consiglio Comunale al quale tu parteci, perché ricordiamo che a volte il Consiglio Comunale, o a volte o quasi sempre, viene comunque trasmesso in diretta attraverso i canali Facebook e Instagram. Allora, Rosaria, ci puoi tracciare un giudizio su questi primi due anni? Con estremo rammarico, devo riconoscere, pur contestualizzando quello che è il momento storico, la pandemia che, se vogliamo, ha determinato un ordine, una modifica di quello che è l'ordine delle priorità. Purtroppo, con estremo rammarico, devo riconoscere che ci troviamo di fronte a quella che è una città lenta. Una città lenta a causa di vecchie problematiche che derivano dal passato, che le imbrigliano e non le consentono di volare alto come meriterebbe, non le consentono di godere di quella bellezza che in fondo merita. Parliamo di viabilità. Abbiamo problematiche piccole ma grandi, che riguardano la disconnessione del manto stradale, che riguarda più punti delle varie strade della città di Capua. Abbiamo grandi problemi infrastrutturali, mi riferisco a quello che è il Ponte Nuovo, che di fatto ha caratterizzato una paralisi di quella che è la vita sociale ed economica di uno dei rioni più popolosi della città di Capua, che è appunto il rione di Porta Roma. Ma non è solo questo, parliamo di periferie? Bene, le vedo nel degrado più assoluto, abbandonate, con problematiche di sicurezza pubblica. Ma vogliamo parlare anche di raccolta differenziata, di rifiuti? Ebbene, purtroppo siamo veramente al disastro più totale. Ci vorrebbe purtroppo quello che è uno studio, uno studio ex novo di tutto quello che è l'iter che riguarda i costi, che riguarda l'affidamento del servizio, che riguarda anche la gestione concreta del servizio. Possiamo parlare anche degli spazi verdi, possiamo parlare degli spazi ludici, sono inesistenti. E questo dovrebbe essere forse il fiori all'occhiello del PUC che è in atto. Possiamo parlare ancora del centro, dei commercianti? Ebbene, ci ritroviamo di fronte all'assenza di linee programmatiche che tendono a riqualificare il centro. Ma ci troviamo anche di fronte all'assenza totale di supporto ai nostri commercianti, che vivono un periodo di criticità assoluta. Potremmo parlare ancora di quelli che sono i nostri beni museali, del nostro turismo, i nostri beni che sono forse il nostro punto di forza, sono oscurati. Attualmente le persone li conoscono solo ed esclusivamente attraverso i test di storia dell'arte. Parliamo anche dello sport. Le associazioni, impianti sportivi, sport, che operano sul nostro territorio, sono completamente abbandonate. Beh, io direi che nonostante questo forse non è un caso, anzi ho voluto, mi ha fatto piacere che oggi ci siamo ritrovati qui in questo luogo, che è forse il cuore pulsante della nostra città, della nostra vita amministrativa. Perché davvero, credetemi, per quel che posso, con tutta me stessa, sto cercando di portare un'energia positiva ed una verbo nuova nella vita amministrativa di questa città. Mi sono occupata, sin dai primi giorni, di temi molto importanti attraverso lo strumento giuridico delle interrogazioni. Mi sono occupata del degrado che caratterizza la città. Mi sono occupata del degrado e della sicurezza pubblica, della sicurezza delle scuole, della situazione dei disabili e delle loro famiglie, dei loro nuclei familiari, perché nessuno deve mai più sentirsi ultimo. Mi sono occupata, è un tema che ho molto, molto a cuore, dei miei lavoratori, dei lavoratori della città di Capua. Mi riferisco agli ausiliari della sosta e mi riferisco ai lavoratori del cimitero, che purtroppo vedono il loro futuro ancorato a quella che è l'incertezza di proroghe tecniche, che nella normalità rappresentano quello che è uno strumento giuridico eccezionale e non fisiologico per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, appunto dei servizi quali quelli cimiteriali e quelli che riguardano l'area di parcheggio, che riguardano i nostri ausiliari della sosta. Combatto e combatterò sempre con loro, non li lascerò mai soli. E in ultimo anche per quanto riguarda lo sport, proprio a fine luglio ho presentato una mozione, che con grande soddisfazione personale, devo dire, è stata approvata all'unanimità anche dalla maggioranza, appunto all'unanimità, che aveva ad oggetto un bando che riguardava lo sport e le periferie e si poneva l'obiettivo di utilizzare quelli che erano dei fondi ministeriali dedicati appunto allo sport e alle periferie e che aveva quale finalità ultima, quella di riqualificare o comunque di costruire nuovi impianti sportivi e di utilizzare la rivalutazione dello sport per riqualificare i tessuti sociali e economici più deboli della città. appunto aveva ad oggetto una riqualificazione o la costruzione di impianti nelle fasce più deboli della città, appunto, delle periferie. Il mio auspicio è che tutti con me condividano questo modo di fare politica e che diano effettivamente un'energia nuova e una verbo nuova alla vita amministrativa. Questo è il mio augurio. Si era parlato, cara Rosaria, di tanti problemi. Tu hai accennato prima il discorso degli ausiliari della sosta. A proposito di sosta, ci sono molti cittadini che si sono lamentati perché sentivano parlare di una probabile creazione della ZTL, zona a traffico limitato, da parte del sindaco e dicevano come mai il comune di Capua, con le strade che sono piene di buche, di pozzanghere, pensano a creare la ZTL. Tu puoi dirci qualcosa in merito? Si è sentito parecchie volte che il comune sta provvedendo per coprire appunto le buche che purtroppo lasciano tanti cittadini fermi. Alcuni hanno anche forato i pneumatici. Mi auguro, come credo che stia avvenendo, che vi siano linfa nuova, nuove entrate che possano essere utilizzate per risolvere questi problemi appunto di disconnessione del manto stradale. E auspico sempre che, nell'ambito di una scala di priorità, chi effettivamente ci amministra e ha potere abbia cura di assicurarsi prima che le condizioni di base dei commercianti e del nostro commercio capuano siano quelle che poi consentono anche l'attivazione di una ZTL. Tu ti occupi le file della minoranza, ma da tempo sembra essersi staccata dal resto del gruppo. È solo un'impressione? O hai deciso di fare un'opposizione in solitario e a modo tuo? A un certo punto della vita amministrativa ho deciso di provare a concretizzare quella che è la mia idea di politica che è una politica che si fonda sulla autentica condivisione di idee, di progetti, sul rispetto reciproco soprattutto e che è lontana, ma davvero lontana, 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 anni luce da quella che è la prevaricazione, da quella che è l'arroganza, da quelli che sono i giochi di palazzo che non mi appartengono e che di fatto conducono solo a sterili litigi e mentre si litiga, come spesso dico, capoamore. E a pagarne il prezzo, purtroppo, sono i miei e i nostri concittadini. Di fatto credo che tu mi hai detto che la mia è una sorta di opposizione solitaria, posso assicurare che non mi sento sola e che non sono sola e che ci sono tante, ma tante persone che come me sono convinte che Capua, soprattutto in questo momento storico, non abbia bisogno di un'opposizione sterile o di un'opposizione a oltranza a tutti i costi, ma che abbia bisogno tuttavia di un'alternativa valida, autentica, che non sia solo un'alternativa elettorale, ma un'alternativa fatta di idee innovative, di progetti, un'idea, una politica che senta forte dentro il senso di appartenere ad una squadra. Questa è la mia idea di politica. Allora, la gran parte dei guai di questa città nascono in un periodo in cui il centro-destra amministrava la città. Di sesto, chiusura della villa comunale, chiusura del museo civico d'arte contemporanea, chiusura del ponte, raccolta differenziata scadente. Un governo di larghe intese e dei migliori sarebbe la soluzione per risolvere, secondo te, i problemi di questa sfortunata città? Guardi, come lei ben sai, come tu ben sai, questa è la mia prima esperienza amministrativa. Però ho la maturità per dire che quelli che sono i problemi della vita di tutti i giorni, quindi anche della vita amministrativa, molto spesso hanno radici del passato. Quello che noi dobbiamo comprendere è che abbiamo una responsabilità, un dovere, gli attori del presente, gli attori del futuro, hanno una responsabilità morale di risolvere appunto questi problemi. Per quanto riguarda il governo, credo che un governo fatto di competenze, un governo di qualità, lo dico con tutta l'umiltà del mondo, ma che allo stesso tempo abbia un volto umano, che sia in grado di essere con le persone e tra le persone, che sia in grado di dare dei risultati concreti ai cittadini, che sia in grado di garantire una continuità lavorativa ai cittadini, che poi è quello che manca da tempo, forse è l'unica strada plausibile che possa condurre ad una salvezza, ad una rinascita. Questo è un appello che veramente dovrebbe essere colto, è una strada che dovrebbe essere percorsa da tutti in questo momento, è proprio un dovere di natura morale, perché io penso che sia l'unica alternativa. Se tutti non comprendiamo questo campanello di allarme, ce ne accorgeremo tra mesi che Capo è destinato a morire. Domani, a volte davvero, è tardi. Allora, andiamo un po' più avanti, perché ci stiamo un po' allontanato troppo dalla telecamera. Capisco il rispetto della distanza, però siccome siamo con la mascherina, ci è consentito. Allora, Rosaria, qualcuno ha ipotizzato che tu possa essere una futura candidata a sindaca, lo possiamo dire. Tu pensi che la città è pronta per avere finalmente un sindaco donna? Allora, questa affermazione mi onora, mi riempie di orgoglio di essere capuana. e mi dà tanta energia positiva. Però adesso è il momento, io credo, e io sto facendo questo, mi sto concentrando solo su un unico obiettivo, che è quello di svolgere al meglio questa attività amministrativa e soprattutto di stare vicino a quella che è la mia città e ai miei cittadini in questo momento storico. Guarda, mi creda, non è una questione di nome, non è una questione di genere, è una questione di condivisione effettiva di progetti, di idee, di programmi. Però vorrei dire una cosa, credo che sia il momento delle donne, credo che le donne abbiano diritto ad avere il peso che meritano ed è per questo che mi sto battendo per realizzare a capo quello che è uno sportello antiviolenza che aiuti quelle donne che a volte hanno paura di denunciare o nel momento in cui poi denunciano si ritrovano ad essere sole. Mi sto battendo affinché effettivamente si dia vita ad un'effettiva parità di genere tra uomo e donne, rispetto alla quale sembriamo veramente essere tanto, tanto, tanto lontani. Mi sto battendo affinché vi sia una tutela della diversità di genere e della diversità in generale, perché sono sempre e fermamente convinta che la diversità possa essere solo, anzi è solo un valore aggiunto e molto spesso non bisogna guardarla come a volte la si guarda, con diffidenza. Credo che sia un errore. Quindi bene, ben venga se dovesse esservi un momento delle donne in generale. Rosario, ma io vorrei fare una domanda, non l'ho fatta alle altre tue colleghe, non solo di compagine, ma anche dell'altro schieramento politico. Sai che durante le campagne che promuovono, sono contro il femminicidio, ce ne siamo accorti dalle varie trasmissioni, tra cui quarto grado, chi l'ha visto, ci sono dei vari simboli che si possono esporre, dalle scarpe rosse, la panchina rossa che è stata proprio piazzata qui in Via Duomo a capo, una lo devono iniziativa. Allora io ti lancio un assist. Siccome nel Consiglio Comunale, lo sai, ci sono varie fazioni, ci sono vari scontri, metaforicamente parlando, che ne dici magari del prossimo Consiglio Comunale, di creare tu un oggetto particolare da esporre di colore rosso contro il femminicidio e contro la violenza sulle donne. Ovviamente ti auguriamo anche di realizzare questo tuo sogno, perché permettimi di dirlo, c'era stato già qualcuno in particolare che prima qui a capo aveva deciso di fare tale cosa, però è stata bloccata, vuoi per la burocrazia. Però Rosario, c'è bisogno di una spinta maggiore. Ho avuto modo di confrontarmi con questa persona ed hai ragione, dobbiamo batterci tutti. Solo uniti potremmo rinascere, sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo unire tutte le forze che abbiamo. È il momento dell'unità. Tu, siccome sei una persona che si dà molto da fare, hai deciso di, magari, lanciandoti io quest'assist, di poter esporre qualche oggetto. Non so se magari ci vuoi dare una news, lo so che è una sorpresa, però magari se il nostro Salvatore avrà un modo di venire lì a fare le riprese per il Consiglio Comunale, vedere l'Avvocato Nocerino che fa un intervento proprio mirato per la violenza sulle donne. Ce ne accorgiamo, cara Rosario, che seguendo tutti i Tg, purtroppo si sente molto spesso parlare di omicidio, omicidio, suicidio, violenza. E anche qui a capo, mi dispiace dirlo, purtroppo qualche episodio si è sentito. Non possiamo rimanere indifferenti. Non possiamo, dobbiamo tendere una mano a queste persone. non le possiamo lasciare sole, assolutamente. Certamente. Oltremmo con il lavoro anche che faccio, no? Facendo anche a volte diritto di famiglia, ti rendi conto che molte donne sono abbandonate, hanno anche paura a volte di denunciare. Questa è la verità. Ed è una cosa assolutamente, scusami, da non fare, perché ne approfitto. Non voglio fare pubblicità alle altre trasmissioni. Però Loredana Bertè, proprio poche sere fa, al Festival di Sanremo, ha lanciato uno spot nel quale si diceva, donne, non abbiate paura, ma come dicevi tu, al primo episodio, al primo schiaffo, al primo pugno, denunciate. Hai fatto benissimo a ricordarlo. Io ho una bimba di sette anni e bisogna combattere, dobbiamo combattere per loro, per tutte le bimbe che, come mia figlia, un domani dovranno trovarsi in una società che deve garantire la parità effettiva di genere, in ambito lavorativo, sociale, culturale, in tutti gli ambiti. È fondamentale. Purtroppo siamo lontani anni luce e dobbiamo unirci per raggiungere questo obiettivo. Ci credo davvero, fermamente. Le donne hanno, a mio avviso, un'ora aggiunto. Perfetto. Allora, passiamo all'altra domanda. Tu pensi che il centro-destra ritornerà alla guida della città? Chiunque, volendo pensare un po' al futuro, a quelle che saranno poi le future amministrative, credo che il comune denominatore di quella che è una futura squadra di governo si debba nutrire di alcune cose fondamentali, che sono la competenza, la condivisione di un serio progetto ed un autentico senso di appartenenza ad una squadra, ma davvero, insomma. E oltretutto bisogna che tutti siano accumulati da una cosa, dalla voglia di fare dei sacrifici per amministrare la città, perché io lo dico sempre che la politica è come una grande storia d'amore. Devi essere innamorato della tua città, devi sentire una passione viva, un fuoco ardere dentro, che per la tua città ti debba dare quello sprone, quella determinazione, quella forza e soprattutto quel coraggio, perché ci vuole tanto coraggio, per prendertene cura. Il tuo messaggio o il tuo consiglio per il sindaco di Capo, che avrà modo sicuramente di seguire l'intervista qui su Capo Online da parte di Rosaria Nocerino? Io credo che bisogna davvero avere una doppia anima, cioè pensare a quelli che sono progetti per il futuro in grande, ma non dimenticare di essere tra le persone, con le persone, non deve dimenticare di dare importanza ai nostri giovani. Io li vivo, li respiro, sono la mia forza i giovani. Non ricordiamo la tua età, però sei giovane, io scherzo, è una cosa importantissima. Anche Salvatore manuiva dalla telecamera. Sei giovane e fai benissimo ad impegnarti per i giovani, perché noi dovremmo essere il futuro della vita, della nostra città. Anche io sono capuano, tu lo sai benissimo, ci tengo particolarmente. Poi volevo aggiungere un'altra cosa. Qui nella città di Capua ci siamo vantati di tante cose, dalla storia all'arte alla cultura, questo gemellaggio con le varie fiction, set cinematografici. Rosario, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo anche per il prossimo Consiglio Comunale che ormai sarà a breve. Mi raccomando, mantieni sempre la tua tenacia e soprattutto, una cosa che diciamo in tanti, nel mio lavoro, nel tuo lavoro, è quella di non mollare mai, perché la passione è alla base di tutte le cose. Di tutto. Io per questo dico, mi rivolgo, se posso, a quelli che sono davvero i giovani, più che altro, con loro che voglio parlare e vorrei dire veramente non perdete mai la voglia, la grinta, e il coraggio di provare, di metterci la faccia a cambiare questa realtà che vi circonda. Mi rivolgo veramente anche agli anziani che sono stati lasciati soli in questa pandemia. Vi rivolgo ai disabili, alle famiglie dei disabili perché hanno diritto ad avere una città che sia fatta a loro misura e non devono sentirsi ultimi. Mi rivolgo ai lavoratori di questa città che non devono smettere di sperare in un futuro migliore. Mi rivolgo a tutte le persone e dico a loro avvicinatevi alla politica, continuate a credere alla politica, date fiducia a chi ama davvero questa città. È importante perché io mi auguro davvero di poter ottenere solo tutti quanti insieme, uniti, una città equa dove effettivamente e con tutte le mie forze mi batterò per questo, i bisogni degli ultimi riescano a scardinare quella che è una gerarchia assurda e diventino effettivamente i primi. Perché se si sogna da soli è solo un sogno, ma se sogniamo uniti veramente è la realtà che comincia. Quindi vi prego avvicinatevi alla politica perché c'è chi ci crede e veramente insomma vi auguro che si ritorni in maniera attiva i giovani, gli anziani, tutti a tornare a vivere nuovamente la politica con quel fervore e quella voglia di mettersi a servizio della collettività e del bene comune. Rosario, un'ultima ecco vieni qui accanto a me che ci stiamo spostando man mano tu lo sai che quando io faccio le interviste mi piace anche un po' sdrammatizzare visto il periodo che stiamo vivendo. Allora io faccio una domanda a te personalmente in qualità di avvocato ma in qualità anche di personaggio della politica capuana se tu dovessi ispirarti a un personaggio della politica nazionale chi ti sentiresti indipendentemente dalla destra o sinistra? Posso essere onesta? Spero che un domani ci sia qualcuno che incarni la mia idea di politica che è un'idea nuova quindi essendo nuova forse non mi riconosco attualmente in nessuno perché davvero credo che è necessario introdurre una linfa nuova in tutti i settori davvero preferisco pensare alla mia capua e creare qualcosa che veramente possa portare un'idea nuova di politica qui a livello locale amo la mia città e a livello nazionale insomma ammiro tanti però non mi sento attualmente vicino a nessuno E' l'originalità quello che ti contraddistingue? Sì, io l'ho detto all'inizio l'ho detto all'inizio quello che conta oggi come oggi è veramente una condivisione di idee di progetti questo di qualità l'importante è che la politica si nutra di qualità dobbiamo alzare un po' la sticella qualitativa della politica in generale partendo dal basso dalle piccole cose per arrivare alle cose più grandi e progetti più grandi Rosaria grazie per la tua intervista noi ti salutiamo e ti ringraziamo Antonio De Rosa nostra ospite Rosaria Nocerino il nostro editore Salvatore Carbone qui all'interno del lato del palazzo comunale vi salutano e vi ringraziano sempre qui in esclusiva su capo online punto com non ci ringrazio non ci ringrazio non ci ringrazio ma non ci ringrazio Grazie a tutti